Buonasera pubblico di Casalotto. Bene, siamo partiti alla grande scela con questa infora. Invece poi l'anno scorso, immancabili. Bene, molto bene, allora una... Eh, già parte... Continuerà a vendere e questa è una cosa... Allora, pochi secondi, ma buoni per... Manca un pezzo. Manca un pezzo, ho detto. Dobbiamo... Meno male che sono io il malatticcio in convalescenza, tra poco. Le mele caravellate, ma che, mica è finita la puntata. No, vabbè, vabbè. Ecco, adesso tra dieci minuti sì che finirà la puntata. Mi ero persa leggermente la ricerca. Molto, molto buone e comunque... Pochi secondi, grazie anche a voi. Ciao.